musica ok, bella raga, sono arrivato allo skatepark, sono venuto in bici e sto già morendo di caldo comunque raga, oggi torno sulla tavola, non ne tocco una da quasi tre mesi, se non quattro raga, vi giuro e avevo imparato a fare lolly, pop show it, show it e frontside secondo me ora non mi ricorderò proprio un cazzo ora si prova, aspetto un mio amichetto, intanto mi riscaldo e provo a rifare lolly iniziamo con quello dai allora, la telecamera la lascio qui all'ombra così almeno voi non sudate e raga, mi sono tolto la maglietta perché sto morendo di caldo, vi giuro non riesco a vivere comunque raga, siamo quasi a 50.000 iscritti, quindi condividete il canale cioè, è d'obbligo, dovete farlo e niente, ora marlena un po', come vedete questo coso qui, in questo rialzo avevo imparato a saltarlo con lo skate e ora si prova, vediamo se sono di nuovo capace e dopo un sacco di tentativi sono riuscito finalmente a rifare un holly dopo tre mesi mi stavo scordando di togliere l'orologio e se l'avessi spaccato avrei sclerato giusto, giusto un pochino dopo essere riuscito a fare qualche holly, diciamo decente ho voluto riprovare a saltare il gradino beh dai raga, sono riuscito al sesto tentativo e non male, direi proprio non male ora, provo a farlo almeno altre due volte poi proviamo lo show it e il frontside sono qui da mezz'ora e già sono riuscito a saltare il rialzo quindi, sono fiero di me? sì, abbastanza ah raga, vi ricordo, lasciate un bel pollicione in su iscrivete se non siete iscritti e condividete il canale ragazzi, siamo quasi a 50.000 e ho un'ideona per i 50.000 ragazzi come va il più di fila? perfetto vabbè raga, l'ultima non è venuta perfetta ah, non ho più fiato provo show it vediamo, vediamo cosa riesco a combinare mi ricordo che non l'avevo chiuso tante volte l'avrò chiuso in tutta la mia carriera tipo 8, 9 volte perché mi guardano male? sono uno youtuber vabbè, basta, basta chiacchiere vado a provare show it terzo tentativo raga sì, ciao skate sì, frena, frena dato che qui c'è una fontanella super, super igienica sì, sì, magari vado a bere un sorsino ora le mani bagnate come cazzo la prendo la telecamera io? che caldo raga non potete capire si muore ora voglio riuscire a chiudere almeno una volta frontside quello raga l'ho chiuso poche volte tipo 3, può darsi 3 volte, 3 o 4 ecco dunque raga sto skatepark lo adoro perché è piccolino gente non ce n'è quasi mai anche se ci sta di più quando siamo in tanti vado a provare a fare un frontside più che altro raga quando provo il frontside mi fa spaventare abbastanza cioè più che altro ho paura di atterrarci male è di volare so che è normale in skate si vuole un botto di volte ma sinceramente preferisco non cadere e non rischiare c'è sto sole che mi sta distruggendo come vedete c'ho gli occhi chiusi quando parlo con voi cioè tra un po' sono così vabbè proviamo sto frontside la madonna io il mio problema è che la tavola quando la giro mi finisce più o meno qui ma la scarpa è andata e quindi devo provare dico e faccio così di provare a saltare anche indietro qui devo fare questo movimento qui ok primo tentativo dopo questo ragionamento raga quasi il mio ragionamento è funzionato raga ne ho chiuso uno sono quasi riuscito a chiuderne uno raga cioè in pratica invece di atterrare così dovrei atterrare così il problema è come ma dite che sto sudando? no perché a me non sembra raga fa caldissimo voglio solo chiudere un frontside e basta comunque seguitemi su instagram e niente finché non chiudo un frontside io non mi stacco da qui ve lo giuro cioè c'è un grillo comunque raga forse ho capito che più in mezzo metto il piede e più gira la tavola quindi dato che la tavola sta girando troppo se la metto più verso la fine dovrebbe girare cioè dovrebbe girare meno velocemente quindi ora provo a regolarmi a vedere dove piazzare i piedi comunque raga è arrivato il mio amichetto in pratica lui mi ha insegnato a fare lolly e anche e basta perché non so fare nient'altro di che ora voglio riuscire a chiudere un frontside per forza come si chiamava strawberry milkshake quel nome diciamo dopo andiamo a prendere un milkshake è venuta voglia oh t'è arrivata nel fai beh però ha girato più veloce più veloce uno due uno quattro bello ragazzi ragazzi io mi caso Per un semplice holly perché Non sono bravo in skate Stavo guardando lì Mi sono visto lo skate in faccia Io raga non so bravo a skateare Quindi mi gaso per un holly così Quando vengono bene Ma guarda che è normale Si deve gasare Quindi raga non mi insultate tipo Io so fare di meglio Non sei un vero skater Non sono capace Ho iniziato da poco Quindi mi devo solamente allenare E provare noi trick Niente raga il frontside l'ho chiuso Cioè poco non tanto Però voglio chiuderne uno bene bene Oh Tiollo No 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 Non ce la faccio più Sto morendo Sto morendo Quindi Niente Finiamo sto video Bella raga